Bene carissimi amici, una buona giornata a tutti voi, ben ritrovati qui sul mio canale YouTube. Appuntamento insieme con la previsione lotto gratis a colpo secco per l'estrazione di martedì 26 luglio 2022. Abbiamo vinto a colpo secco con la previsione del 23 luglio, l'ambata secca 52 sulla ruota di Bari a colpo. Quindi queste sono previsioni che non mancheranno di darci soddisfazioni. Quindi spero che ci possano portare delle belle vincite o di ambetto o di ambosecco a colpo. Ma anche l'ambata, vincere l'ambata a colpo è importante perché parliamo comunque di una giocata a colpo secco. Quindi anche giocare l'ambata e vincere a colpo secco è di grande rilievo. Per l'estrazione di martedì avremo Bari nazionale, le ambate secche 35 e 55 che possiamo unire in ambosecco e ambetto e la terzina 35 e 55 e 90. Formeremo questi ambisecchi Bari nazionale 35 e 59, 35 e 53, poi 55, 53 e 55 e 59. Questi sono gli ambisecchi da giocare a colpo sulle ruote di Bari nazionale con le ambate, come vi ho detto, 35 e 55. Possiamo tentare la terzina inserendo il 90. Quindi cari amici questa è la previsione per martedì 26 luglio, vediamo cosa succede. Siamo reddici da questa vincita con il 52 a colpo vinto a Bari con la previsione precedente. Tutte le previsioni sono verificabili, potete andare a vedere il video dove consigliavo il 32 e il 52 Bari nazionale a colpo. Quindi abbiamo le due ambate, ambosecco e ambetto e gli ambisecchi, questi ambisecchi proprio singoli, secchi Bari nazionale. Questa è la previsione per martedì. Per adesso un saluto a tutti, Mr. Sbancolotto. Grazie a tutti.